20 anni fa l'attentato terroristico negli Stati Uniti che portò al crollo delle torri gemelle in questi decenni gli appelli di tre papi al dialogo e alla riconciliazione. Inizia domani il 34esimo viaggio apostolico di Papa Francesco che chiuderà il congresso eucaristico a Budapest visiterà la Slovacchia l'invito a testimoniare una chiesa rivolta al mondo. Pellegrinaggio delle famiglie a Genova nel cammino verso l'incontro mondiale del 2022 affidate a Maria le sofferenze le speranze e anche le preghiere per chi è lontano dalla fede. Parco nazionale di Portofino 20 giorni per ridisegnare i nuovi confini, i comuni che vogliono uscire potranno farlo, possibili anche nuovi ingressi con il vincolo della continuità territoriale. Quantità minori ma ottima qualità è iniziata la vendemmia nelle vigne della cooperativa agricola Lavagnina al lavoro anche i nuovi soci giovani. Brigida Morello, la sua modernità, la sua attenzione alle giovani donne, il carisma gesuitico, il senso profondo del rinnovamento, i temi dell'incontro che si è tenuto a San Michele di Pagana nella memoria liturgica della Beata. Sestri Levante rende omaggio a Carlo Bo a vent'anni dalla scomparsa, due mostre allestite nel palazzo comunale sulla vita del letterato e sul suo legame con la città e l'università di Urbino. Se anche la forza delle tenebre sembra preparare, chi credente sa che il male e la morte non hanno l'ultima parola. e le give us the wisdom and the courage to retire as the foreground. Their true peace and love reign among nations and in their hearts of all. In le differenze, in le discrepanze, è possibile vivere un mondo in paz. E buonasera dalla redazione di Telepace. La copertina di Vatican News, lo avete visto, è stata dedicata al ricordo del terribile attentato terroristico avvenuto negli Stati Uniti esattamente 20 anni fa che portò al crollo delle torri gemelle. Le vittime, lo sapete, furono 2.996, compresi i 19 dirottatori dei quattro aerei con i quali vennero compiuti altrettanti attacchi suicidi. Proprio nella settimana del ventesimo anniversario sono state identificate altre tre vittime. Nelle immagini che abbiamo visto, le parole di Giovanni Paolo II, di Benedetto XVI e di Francesco. I tre papi che si sono succeduti in questi ultimi due decenni e che, dinnanzi all'indelebile memoria di quanto accaduto, hanno sempre lanciato appelli per la costruzione della pace e un invito al dialogo e alla riconciliazione. E questo anniversario si colloca proprio alla vigilia del 34esimo viaggio apostolico che Papa Francesco compirà da domani, domenica, fino a mercoledì a Budapest e in Slovacchia. C'è grande attesa per il successore di Pietro che invita ad essere chiesa in uscita, trovando un linguaggio capace di parlare del Vangelo al mondo. Sentiamo l'intervista che Vatican News ha realizzato con il cardinale segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin. Quali frutti si attendono dal congresso eucaristico e cosa porterà il Papa? Ma il congresso eucaristico dovrebbe portare appunto poi ad una, come dire, ad una vita, ad una vita che sia una vita eucaristica. E proprio in questi giorni ho riletto il discorso che Papa Francesco, l'omilia che Papa Francesco ha pronunciato, era 2018 mi pare, a Molfetta in occasione del 25esimo anniversario della morte di Don Tonino Bello. E allora diceva, tra le altre cose, dice, in ogni parrocchia, in ogni chiesa dovrebbe essere affisso questa scritta. Dopo la messa non si vive più per se stessi, ma si vive per gli altri. Ecco, credo che questo è il senso di quanto diceva il cardinale Erdogan. In Slovacchia ad accogliere il Papa sarà una popolazione in cui è viva la memoria dei Santi Cirillo e Metodio. Una visita che ribadisce il ponte spirituale di dialogo tra Oriente e Occidente. Certamente, certamente. Hanno saputo parlare, ecco, alla gente del loro tempo, ecco, hanno saputo annunciare il Vangelo in categorie che fossero loro accessibili. E questo è un invito a fare quanto ci chiede Papa Francesco, parlando di una chiesa un'uscita, di una chiesa che deve essere tutta rivolta all'evangelizzazione del mondo, essere rivolta all'evangelizzazione del mondo significa trovare il linguaggio adatto perché il mondo possa ricevere l'annuncio del Vangelo. Il Papa presiderà la messa al Santuario Nazionale di Shastin nel giorno della festa della Madonna dei Sette Dolori, patrona della Slovacchia. Una tappa questa a cui il Papa non ha proprio voluto rinunciare. Sì, certamente, ed ha anche prolungato in un certo senso il suo viaggio proprio per poter partecipare a questa festa popolare, ecco, che è di grande devozione della patrona della Slovacchia. E questo Santuario di Shastin è un esempio proprio di quanto importante sia la devozione alla Madonna per la vita di fede di un popolo, di una comunità. La telepace seguirà in diretta i vari momenti di questo viaggio. Domani la prima diretta sarà alle 7.45 con l'accoglienza ufficiale all'aeroporto di Budapest. A partire dalle 10 l'incontro con i rappresentanti del Consiglio Ecumenico delle Chiese e alcune comunità ebraiche dell'Ungheria al Museo delle Belle Arti. A partire dalle 10.45 in Piazza degli Eroi la Messa, al termine della quale verrà recitato l'Angelus. Alle 14.30 la cerimonia di congedo all'aeroporto. Alle 15.30 il Papa sbarcherà poi all'aeroporto di Bratislava, dove alle 16.30 sarà ricevuto nella sede dell'Annunziatura Apostolica per un incontro ecumenico. Si è aperto a Genova il quattordicesimo pellegrinaggio delle famiglie dinnanzi alla Cattedrale di San Lorenzo. Questa mattina ci sono state le testimonianze gioiose di diversi nuclei familiari. Poi il cammino fino alla Basilica delle Vigne, proprio attraverso i vicoli di Genova, dove è stata celebrata la Santa Messa. La famiglia in cammino, un'immagine simbolica che testimonia il desiderio di andare avanti nonostante le difficoltà e nell'affidamento a Maria. Così questa mattina in Piazza San Lorenzo a Genova si è aperto il quattordicesimo pellegrinaggio nazionale per la famiglia, promosso dall'Ufficio Nazionale per la Pastorale Familiare della CEI, dal Forum delle Associazioni Familiari e dal Rinnovamento nello Spirito Santo. È nato 14 anni fa, è stato fatto a livello nazionale dal rinnovamento, di solito veniva fatto a Pompei, dove da tutte le regioni i gruppi del rinnovamento partecipavano a questo pellegrinaggio. L'evento ha riguardato 19 regioni italiane più una regione svizzera e si colloca nel cammino di avvicinamento all'incontro mondiale delle famiglie con il Papa a Roma il 26 giugno 2022. Ha la caratteristica di riunire tre generazioni, i nonni, i figli e i genitori, che sono tutti uniti. In che cosa? In un cammino di preghiera che è testimonianza cristiana ed è caratterizzato soprattutto dalla presenza di Maria, perché noi attraverseremo le strade del centro storico di Genova pregando il rosario per la famiglia. E quindi in questo modo vogliamo raggiungere anche tutte quelle famiglie che sono particolarmente nella sofferenza, nella difficoltà, ferite, forse anche lontane, tante volte nella maggior parte dei casi, al giorno di oggi dalla fede. E' un momento di festa, un momento per affidarci a Maria, per affidare le famiglie, i genitori, i nonni, i bambini e per dire ancora una volta che la famiglia è viva e viva la famiglia. La procura di Genova ha bloccato il funerale di Emanuele Pileggi, il dipendente di Fincantieri e dirigente del villaggio Calcio di 42 anni, morto dopo un aneurisma giovedì scorso. La celebrazione avrebbe dovuto svolgersi oggi nella Basilica di Lavagna. Il pubblico ministero Giovanni Arena ha voluto studiare il caso e valutare se procedere con l'autopsia. Sono 98 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria a fronte di 2.788 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 4.990 tamponi antigenici rapidi. Lo comunica Lisa nel bollettino quotidiano. Il totale degli ospedalizzati scende di una unità perché purtroppo oggi è stato segnalato il decesso di una donna di 91 anni che è mancata ieri all'ospedale della Spezia. Sono quindi 91 i ricoverati in Liguria, di cui 9 in terapia intensiva. Sono due le persone ricoverate all'ospedale di Sestri Levante. Oggi in Liguria sono state somministrate 3846 dosi di vaccino, di cui 262 nel territorio dell'Asle 4. Il 99% dei pazienti ricoverati in terapia intensiva nei nostri ospedali non è immunizzato neppure con una dose di vaccino. I dati Liguri confermano il report dell'Istituto Superiore di Sanità. La doppia dose protegge in modo efficace dalle forme gravi di infezione da Covid-19 e nella stragrande maggioranza anche dal rischio di ospedalizzazione. Sono parole pronunciate questo pomeriggio dal presidente della Giunta regionale Ligure, Giovanni Toti. In Liguria l'incidenza settimanale del virus ogni 100.000 abitanti è scesa a 52 casi a livello regionale. Da mercoledì 15 sarà possibile effettuare il vaccino senza prenotazione in diversi punti vaccinali della nostra regione per quanto riguarda il territorio dell'Asle 4, a Chiavari, al Lab di Caperana, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18. A Rapallo il sabato dalle 8 alle 18. A Sestri Levante il sabato dalle 8 alle 18. Saranno giorni di confronto quelli che vedranno coinvolti i comuni del Tiguglio che sono stati chiamati in causa nella definizione dei confini del Parco Nazionale di Portofino. Dopo le aperture del ministro ad una nuova riperimetrazione, la regione dovrà arrivare a tracciare il quadro entro la fine del mese. Una nuova proposta per la riperimetrazione del Parco Nazionale di Portofino da presentare entro 20 giorni con ben specificate le richieste di deroga relative a determinate aree. E l'impegno che la regione e Anci Liguria in accordo con gli 11 comuni si sono presi l'onere di proporre al ministro per la transizione ecologica Roberto Cingolani per sbloccare l'impasse venutasi a creare con la definizione dei confini decisa a fine luglio dall'ex Ministero dell'Ambiente. Nella sede della regione a Genova si è svolto un incontro con tutti i soggetti coinvolti e il ministro collegato in videoconferenza da Roma. La proposta verrà presentata nelle prossime settimane mettendo al centro la volontà del territorio degli enti locali. ...deroghe adeguate che possano consentire che questo parco nasca come un luogo di sviluppo, un luogo di apertura e non un enclave che impedisce le attività economiche, le attività di sviluppo, le attività venatorie come diciamo molta apprensione questa cosa aveva generato. La partita dunque è ancora aperta e potrebbero cambiare anche i nomi dei giocatori. Degli 11 comuni coinvolti inizialmente nell'attuale riperimetrazione alcuni come Cicagna hanno già espresso la loro volontà di uscirne. Altre amministrazioni inizialmente escluse potrebbero invece scegliere di essere incluse nei nuovi confini. L'unico vincolo perché questo sia possibile è la continuità territoriale. Lo spirito deve essere questo, chi ci vuole stare è giusto che ci investa, che ci sia e chi non ci vuole stare è giusto rispettarne la volontà. Se no ci troveremo in una situazione un po' assurda di ordini calati dall'alto contro un territorio. Non è una cosa semplice, d'altronde come si sa ci sono diverse sensibilità. Noi cercheremo di metterle tutte in fila, di metterle insieme e di farle conciliare tra loro. Se non ci fosse stata un'apertura così importante da parte del Ministro e una capacità di visione così importante da parte di Regioni e di Anci probabilmente oggi saremo soltanto a discutere di contrasto. Invece si può ragionare di sviluppo. Inaccettabile il ritardo nello smontaggio dei cantieri che si è verificato ieri pomeriggio sull'autostrada A12 con code chilometriche fra Genova Est e Rapallo è la denuncia dell'assessore regionale alle infrastrutture Giacomo Giampedrone a seguito dei disagi che si sono verificati ieri pomeriggio in A12. Secondo quanto concordato nel tavolo con il Ministero, infatti come ogni venerdì i lavori dovevano essere sospesi alle 14 in vista del fine settimana la sospensione invece si è verificata alle 17.30 credo che quanto accaduto sia l'esempio più lampante della necessità che il Governo ascolti la richiesta di Regione Liguria di sospendere tutte le lavorazioni liguri nei giorni in cui si svolgerà a Genova il Salone Nautico Internazionale questo l'auspicio conclusivo di Giampedrone. Nei prossimi mesi il Comune di Sestri e Levante metterà in atto diversi interventi nelle frazioni collinari è arrivata infatti la conferma da parte del Ministero dell'Interno e di quello dell'Economia dell'assegnazione di ulteriori 800.000 euro che vanno ad aggiungersi allo stanziamento precedente di 1.680.000 euro la somma complessiva dunque 2 milioni e mezzo di euro verrà utilizzata per la messa in opera di tre interventi sulle frazioni di Loto e di San Bernardo e sulla scuola di Via Lombardia in quest'ultimo caso in particolare i lavori riguarderanno l'ulteriore miglioramento dell'edificio attraverso l'adeguamento sismico per un totale di 300.000 euro è prevista poi la messa in sicurezza delle strade nell'area di San Bernardo dove si procederà all'ampliamento della carreggiata e poi ancora la realizzazione di nuove barriere di sicurezza sulla strada per Villa Carmelo e il ripristino della strada che unisce San Bernardo a Loto la nuova tranche come detto va ad aggiungersi al precedente finanziamento di 1.680.000 euro che è stato destinato ad un intervento di regimazione delle acque e tutela del dissesto a Villa Libiola al consolidamento strutturale dell'area di San Nicolò e ad un primo lotto per un intervento sul canale di via Monsignor Vattuone è tempo di vendemmia e sicuramente ad aiutare questa raccolta dell'uva nelle vigne del Tiguglio sono le belle giornate di bel tempo che stiamo avendo lo testimonio al tramonto che Gregory Ezechieli ci ha proposto dalla regia in diretta dalle webcam della nostra sede un'annata dunque questa che ha tutti i presupposti per essere ottima sul piano della qualità al lavoro e in queste ore anche i soci della cooperativa agricola lavagnina quantità minori rispetto agli scorsi anni per una qualità del prodotto difficile da superare si vendemmia nella valle dei Berissi a Lavagna dove sono maturati sotto il sole dell'estate gli acini d'uva delle vigne della cooperativa agricola lavagnina nelle scorse ore i soci anche i più giovani hanno raccolto i grappoli che saranno poi spremuti nelle cantine Bisson di Riva Trigoso L'uva che stiamo raccogliendo è il vermentino ligure e la qualità è buona ci sono due fattori problematici l'uno è il marciume e il secondo sono gli uccelli e i ratti che vengono a mangiare l'uva i cinghiali sono rimasti fuori quest'anno sì perché abbiamo ricintato quest'anno abbiamo aggiunto la recinzione e per fortuna li teniamo al di fuori della nostra piana alla fine della vendemmia il quantitativo di uva raccolta si aggirerà secondo l'estima intorno ai 10-12 quintali un calo di produzione dovuta al riempianto di nuovi filari operazione necessaria però per mantenere elevato lo standard qualitativo del prodotto credo che anche sia un po' l'obiettivo della cooperativa puntare sulla qualità ecco quest'anno è un obiettivo centrato abbiamo lavorato tanto sul vigneto della cooperativa lo facciamo sempre quest'anno il lavoro che abbiamo fatto ha dato i suoi risultati quindi arriviamo ad oggi con un risultato pienamente soddisfacente se la cantina supporta il nostro lavoro usciremo con un prodotto degno di nota quest'anno quant'è la produzione che è stata raggiunta? allora sullo standard degli altri anni proprio per il discorso di prima ma anche perché c'è un rinnovamento in corso nel nostro vigneto avevamo vigne vecchie e piuttosto ammalorate quest'anno abbiamo cercato di rinnovarci nella produzione nel parco vigne diciamo e quindi quando si fanno questi impianti rinnovati c'è un calo di produzione noi abbiamo calcolato circa così a spanne che saremo rispetto agli anni scorsi su una produzione del 70% circa di produzione rispetto agli altri anni Don Giovanni Vaccaro è stato nominato dal vescovo aiuto pastorale delle parrocchie di Moneglia Don Giovanni prosegue dunque il suo cammino pastorale intrapreso nel corso dei mesi estivi e anche il percorso di studi teologici che si svolgerà a Roma Don Vaccaro nato a Santa Margherita Ligure il 30 ottobre del 1992 è stato ordinato presbitero lo scorso 23 maggio dal vescovo Alberto Tanasini in precedenza aveva ricoperto l'incarico di aiuto pastorale nella zona di Levi e Camposasco l'antico crocifisso della parrocchia di San Bartolomeo è stato mostrato ai fedeli di Borzonasca dopo un lungo restauro durato circa un anno che lo ha riportato all'ustro originario oggi pomeriggio il parroco Don Daniele Beronio ha trasferito il Cristo dall'oratorio dei Santi Filippo e Giacomo alla chiesa parrocchiale insieme a lui il vicario generale della diocesi di Chiavari Don Stefano Mazzini il sindaco di Borzonasca Giuseppino Maschio e alcuni fedeli presenti anche Paola Traversone del segretariato regionale del Ministero della Cultura per la Liguria e la restauratrice Margherita Levoni dello studio Martino Berto che hanno curato i lavori del crocifisso una volta riposto il Cristo sull'altare laterale della chiesa si è svolta la Santa Messa che è stata presieduta dal vicario generale della diocesi la celebrazione di oggi si inserisce nei festeggiamenti del Santissimo Crocifisso che avranno il culmine martedì 14 settembre con la Messa Solenne presieduta dal Vescovo di Chiavari Monsignor De Vasini alle ore 18 nella chiesa di San Bartolomeo a Borzonasca un servizio più ampio ovviamente nel corso dei telegiornali dei prossimi giorni e nella nostra trasmissione Noi Chiesa Qual è la modernità della beata Brigida Morello originaria di San Michele di Pagana e qual è il suo rapporto con il carisma gesuitico che Papa Francesco incarna se lo sono chiesto e lo hanno spiegato Alessandra Rotta esperta di storia locale e architetto e l'inviato di avvenire nello scavo che hanno conosciuto madre Elisabetta vice postulatrice della causa di beatificazione di Brigida Morello e strenua sostenitrice di un rinnovamento profondo della congregazione delle Orsoline che venne fondata proprio da Brigida Morello nel 1649 Vediamo La modernità di Brigida Morello la possiamo riassumere in una sua frase che disse Vorrei essere uomo per poter andare per il mondo e prendere tutte le persone e portarle a Dio Questa è la sua vera modernità l'andare per il mondo questo suo concetto di educazione verso gli altri nel non aspettare che le persone andassero da lei mandare lei stessa a cercarle un'educazione che sua Elisabetta che è stata la vice postulatrice che ha permesso che la beata diventasse tale dopo essere stata solamente venerabile è stata colei che mi ha proprio permesso di capire questo della beata Brigida questa sua apertura verso gli altri educando al cristianesimo e con il cristianesimo In questo momento storico che stiamo vivendo può aiutarci la testimonianza di Brigida Morello ad affrontare le sfide dell'oggi? Direi indubbiamente di sì perché lei si è trovata nella metà del Seicento a Piacenza in un momento in cui finite varie guerre c'era un periodo stranamente di pace la pace dopo le varie tempeste e lei in questo momento ha saputo dare alla cittadinanza intera quel punto di riferimento che era la casa di Sant'Orsola dove venivano accolte tutte le bambine e le ragazzine benestanti e le ragazzine della città della strada e nel dire ragazzine sottolineo l'attenzione alla parte femminile della società madre Elisabetta bisogna dire che con la sua pervicacia allegria anche costanza è riuscita a incontrare il Papa a Roma è un fatto eccezionale per una sola di più di 90 anni che voleva assolutamente insieme ad altre sorelle provare a incontrare Francesco e scambiarci due chiacchiere è stato un momento molto bello che lei ci ha raccontato di grande di grande entusiasmo e però ha riportato molto diciamo di questo incontro nella sua quotidianità nell'attività di studio che ha svolto soprattutto per ricostruire la vicenda umana e religiosa della fondatrice la Beata Brigida sia a rilanciare la vocazione e la missione del suo istituto che come molti altri vede un periodo di fatica soprattutto nelle vocazioni e che deve ritrovarsi invece in scelte educative importanti perché questo è il carisma delle orsoline e quindi madre Elisabetta ci ha trasmesso questa sua vicinanza anche con questo territorio bisogna dire soprattutto con questo territorio ce ne ha parlato sempre molto e poi per una serie di vicissitudini e coincidenze ci troviamo qui in un momento molto speciale certamente sarebbe piaciuto molto a lei essere qui ma siamo anche sicuri che sia probabilmente anche molto divertita del fatto che è riuscita a ricongiungere tanti amici in questo momento e in questo luogo Su questi temi come avete visto c'è stata la celebrazione della messa nella memoria liturgica della beata Brigida Morello e c'è stato un incontro che potrete seguire i protagonisti sono proprio Alessandra Rota e Nello Scavo lo potrete seguire dicevo domenica alle 21.50 su Telepace 1 al canale 15 in occasione dei festeggiamenti in onore della patrona nella parrocchia di Santa Maria del Ponte a Lavagna domani padre Attilio Fabris presiderà la messa alle 11 il tempo di adorazione eucaristica che inizierà alle 17 alle 18 il Rosario alle 20.15 i secondi i vespri presieduti da Don Federico Tavella e alle 21 la messa presieduta dal Vescovo nella festa della esaltazione della croce a San Salvatore domani nella messa delle 11.15 saranno celebrate le prime comunioni lunedì vigilia della festa la messa delle 19 sarà presieduta da Don Stefano Mazzini martedì alle 19 la messa sarà celebrata da Don Tommaso Mazza e in precedenza alle 17.45 l'architetto Svaldo Garbarino terrà una conferenza dedicata alle più antiche architetture cristiane del territorio ricordiamo poi che per tutta la durata del triduo la reliquia della vera croce sarà esposta in basilica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.30 e sarà possibile celebrare il sacramento della riconciliazione in occasione della solennità di Nostra Signora dei Miracoli a Cicagna domani alle 10 sarà celebrata la Santa Messa per le famiglie e gli sposi che festeggiano il 25 oppure il 50 di matrimonio lunedì alle 17.30 l'offerta dei fiori e l'affidamento dei bambini a Maria festa patronale della Madonna della Guardia nella parrocchia di San Ruffino a Leivi domenica alle 10.30 la celebrazione della messa in suffragio di Don Francesco Casella alle 18.30 il Vespro l'Omelia e la Benedizione Eucaristica presieduti da Don Giovanni Vaccaro lunedì alle 19 la messa in suffragio dei caduti per tutte le guerre in occasione della festa del Santo Nome di Maria al Santuario di Montallegro domenica alle messe delle 8 delle 10 delle 11.30 delle 17 sarà distribuito il pane benedetto Carlo Bo il Palazzo Ducale parole e immagini nelle stanze e Carlo Bo la memoria vive a Sestri Levante sono i titoli delle due mostre che sono state allestite al piano terra del palazzo comunale di Sestri Levante e che vogliono celebrare una delle più eminenti figure del panorama culturale italiano del novecento nel ventennale della sua scomparsa ieri c'è stata l'inaugurazione c'è un filo rosso che negli ultimi decenni del secolo scorso ha legato e lega tuttora Urbino e Sestri Levante le due città dell'anima per Carlo Bo un filo che parte da lontano 1938 con la nomina del letterato alla cattedra di letteratura francese e spagnola dell'università marchigiana in carico che dellì a pochi anni lo avrebbe portato a quella direttore ricoperta fino al 2001 e arrivava fino al mare di quella che il senatore chiamava la sua piccola patria oggi quel legame viene riannodato e rinsaldato con una mostra nell'atrio a palazzo comunale in cui vengono ripercorsi gli anni della vita sestrese di Bo con fotografie recuperate dall'archivio fotografico della famiglia rappresenta gli anni dell'infanzia di Carlo Bo qui a Sestri quindi gli anni 10 poi gli anni importantissimi del liceo dei gesuiti a Genova dove aveva come professore di greco Camillo Sbarbaro e dove Carlo Bo confessa che è stato proprio una volta a partire da alcuni versi uditi da Camillo Sbarbaro che è nata la sua vocazione l'iniziativa in memoria di Carlo Bo a 20 anni dalla sua scomparsa e a 110 dalla sua nascita prosegue nel palazzo comunale di Sestri con una esposizione di scatti del palazzo ducale di Urbino resteranno aperte le due mostre fino alla fine di settembre l'università marchigiana da lui guidata per 53 anni dal 2003 porta il suo nome qui l'eredità culturale e umana di Bo vengono portate avanti anche attraverso una fondazione una figura che ovviamente era in ambito umanistico insegnava letteratura francese ma che ha saputo negli anni anche sviluppare quella diciamo quella tendenza ai cambiamenti che avvenivano nella società che spingevano ad una valorizzazione delle aree scientifiche dell'Ateneo riprendendo anche diciamo lo spirito della corte di Urbino nel Rinascimento che all'epoca era uno dei centri più importanti per quanto riguarda la matematica la fisica la Virtus Entella torna in campo per cercare di riscattare la sconfitta di domenica scorsa contro il Monte Varchi i bianco celesti scenderanno dunque al comunale di Chiavari domani pomeriggio alle 17.30 contro la Lucchese per la terza giornata del campionato di calcio di Lega Pro ora sfogliamo la nostra scheda degli appuntamenti domenica 12 settembre la 21esima edizione della Fiera dei Perdoni e dei Perdonetti avrà inizio alle 8.30 a San Salvatore dei Fieschi alle 10.30 la premiazione del concorso per il miglior uliveto e a seguire la consegna delle targhe per i 50 anni oltre alle attività più longeve del comune a Reppia aprono alle 9 i banchetti della festa Dulueto con giochi artisti di strada pranzo e nel pomeriggio alle 15 lo spettacolo del Mago Gio e dalle 17 la presentazione del libro di Fabrizio Benente Mario Dentone Malamorte a San Nicolao indagine su un caso di omicidio medievale per le domeniche dell'oasi l'Apterti Guglio propone una osservazione naturalistica sull'oasi dell'Entella in collaborazione con Lipu appuntamento alle 9 ai giardini di Via dei Devoto a Lavagna dalle 9.30 alle 12 gli appassionati di filatelia cartofilia e numismatica possono prendere parte all'Assemblea del Circolo Culturale Filatelico Numismatico Chiavarese che si terrà nella Sala Livellara di Via Del Pino a Chiavari ricordiamo che fino al 17 settembre è allestita la mostra Acquerella Chiavari Watercolor Inspiration a cura di Andrea Lavaggi mostra internazionale che raduna Italia e Galles partecipa al Liceo Artistico Luzzati solo domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 dimostrazione di pittura nel Chiostro di San Francesco nell'ambito delle manifestazioni per il ventennale della scomparsa di Carlo Bo alle 17 all'ex convento dell'Annunziata di Sestri Levante premiazione del concorso letterario Carlo Bo Giovanni Descalzo prosegue il festival Paganini ed Intorni all'Oratorio di San Filippo a Genova alle 21 Paganini per tutti con il quartetto Nanneri due violini viola e violoncello concerto organistico nella Basilica di Santa Maria di Nazareth a Sestri Levante Guido Ferrari proporrà un repertorio dedicato a brani barocchi ed ottocenteschi a partire dalle 21 H7 sarà ospite Rapallo alle 21.30 al Chiosco della Musica 20 anni in testa alle classifiche sarà intervistato da Paola Servente di Radio Babboleo Oggi due famiglie sono in festa anzi in realtà sono molte di più lo è anche la famiglia di Telepace nella chiesa di Santa Maria Assunta a Ne Giulia Chiesa e Davide Melini infatti hanno celebrato le loro nozze un augurio speciale dunque a Giulia che è qui vedete con il papà Michele Chiesa in procinto di entrare in chiesa e qui le scatto appunto della cerimonia Oggi però sono state celebrate anche le nozze di Mattia Malatesta e Arika Malarbi il matrimonio in rito battista è stato celebrato a Sestri Levante e anche qui abbiamo alcuni scatti della cerimonia ai neosposi e alle loro famiglie le felicitazioni da parte di tutta Telepace Terminiamo così questo appuntamento con la nostra informazione che torna lunedì mattina alle 7.30 con la nostra rassegna stampa vi ricordo che trovate tutte le notizie aggiornate sul sito teleradiopace.com al canale 187 Telepace News grazie per averci seguito buon proseguimento di serata e buona domenica a tutti grazie a tutti grazie a tutti